E bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Regà, oggi siamo in un nuovo Level ASEAN Che ho creato con le mie soffici manine Delicate, delusione, 3, 2, 1 Let's go, andiamo a trollare tutti, vediamo Fox Stella, 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 trolliamo stella Ma è stella, va bene regà Ora abbiamo tempo di ridere e scherzare Ma più avanti ci sarà da piangere Che la gara non è per niente facile regà Anzi, come avete visto nella miniatura È roba incredibile Comunque adesso vedrete le gare dell'ozione Sapete che sono una marcia in più, bestia Non ti trollare Allora ho messo, ma zonna che è, ma zonna, bestie Allora, check preso Andiamo per questo GP, ho messo sto GP Per riscaldarci un po', attenzione Allora ho sto nuovo profilo, rovanaccio kille Che lo uso per registrare su PS4 E ho la guida ancora bassa, quindi non riesco a controllare il veicolo alla perfezione Però questo non ci fermerà Ecco, guardate lassù regà Ma è una ragazzi, cosa c'è là Ah, attenzione Ok, iniziamo Oh, attenzione Piano piano regà Allora, no Eh, eh, c'è già ingorgo regà Vedo, ho levate Via 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 Eh regà, qua è un problema Ok Vai stella Credo in te Ok, grande stella Non ha toccato niente Allora Il problema adesso potremmo toccarla qua in volo E questo Vai, per favore Grande ce l'ha fatta anche stella Incredibile stella GG Ora Andiamo avanti Faccio un altro skill del freno Così Vediamo se riusciamo alla prima Madonna, anche troppo Bene, l'abbiamo preso Ok, un altro check preso Let's go Vabbè, level asian regà Sono difficili da commentare Perché Madonna Sono gare complicate Di solito Se vi ricordate Ai iscritti vecchi Mettevo sempre la musica Perché comunque Sono gare complicate Ok, il container è andato Uno No Vai così Ok Prima andato Per favore Ok, ce l'abbiamo Restorniamo Che ce l'ha fatta Lugozzi Ma sai Lugozzi Campione Allora Vai Prossime Prossima skill da fare È questa qua Regà Fino World ride Attenzione Non vedo niente Ok Fino Ancora Bestia World ride Di nuovo È un cerchio Ok Check preso Ora Bisogna entrare Dentro i tubi Ok Prima andato Alla grande Ora il check sta là Raga Quindi dobbiamo fare Un altro salto Epico Dove Lugozzi Non ce l'ha ancora fatta Vai Vediamo se ci arriva Vai Da sotto Preso Preso I campioni Che prendo I check Da sotto Comunque Vai col World ride Comunque l'ho creata Con la T20 Sta gara Non con l'XA21 Giusto per cambiare Un po' Allora Raga Qua tocca fare Il cerchione Cerchino Cerchione Per favore Ok Un altro cerchino Cerchione Vai Very good Eccolo lì Il check Stiamo un po' Alti Regà Se no Non ci arriviamo Perfezione Resto Uniamo Che bisogna partire Esattamente Da Da Checkpoint Ok Turbo Vai Atterra qua Ottimo Stortissimi Regà Stortissimi Respondiamo Ok C'è la prima Ce l'abbiamo Per favore Dritto Ok Vai sulla rampina Questa parte è spettacolare Regà Attenzione Vai su Così Turbo Bistia Ce la farà Ci arriva Sì Regà Calcolata la perfezione Della lozione Prossima parte Ma dai Però noi ce la faremo Regà Allora Vai Concentramento Ok No no Por favor Ok Ci siamo No no Non la sto perdendo Ok ce l'ho Ce l'ho Attenzione Vai così Dentro i tubi No Calcolato anche qua Regà Alla grande Allora un altro Trick del freno Qua Vediamo Da dove bisogna partire Mi sembra da qua Regà Vai così Girati Veloce Più veloci Regà Ok Siamo passati Incredibili Non so neanche io Da dove Sono passato Allora Piano qua Regà Dobbiamo centrare Sta rampa Mazzanna Che se no Allora vai Rampa Questa sembra Buona Regà Questa sembra Buona Vediamo Maiz E' buona E' ottima Questa Vai siamo Quasi al termine Di questo Level Asian C'è ancora Tanto da fare E' un Level Asian Di quelli Vecchi Antichi Bellissimi Regà Quindi Level Asian Preferiti Check Preso Allora Vai col salto Cambio Vai Niente Ecco la T20 Regà Non è così facile Ok ok Ci siamo Regà Allora Adesso saliamo su Dovrebbe esserci il tubo Eccolo qua Il tubo bianco A scendere Con la T20 Vai Adesso Adesso non mi ricordo Esattamente Cosa c'è Ma conoscendo L'ozione Nulla di facile Anzi Vediamo Ok vedo la rampa bianca Vediamo arrivare Su quella rampa bianca Regà Ecco qua A metà di sto tubo Facciamo un altro giro Di sicurezza Non si sa mai Ok Giù Vai con la rampa bianca Ok Tubo Easy dai Check preso Cambio Vai Ma Zain ha preso Malissimo Allora gli altri Non so dove siano Ma questa è difficile Ok Questa è perfetta Stiamo un po' su Tarano le frecce Ok Check preso Andiamo a vedere Cosa c'è dopo Rekt You get rekt My friend Ok Ci siamo Regà Turbo alto Ok Rallentiamo Che dobbiamo entrare qua Ok madonna Sta gara Regà Non hai un attimo Di respiro Per farla Per cercare di finirla bene Ora c'è la discesa Non so cosa c'è dopo Regà Vediamo Ok Dentro al tubo C'è il finale Regà Madonna ragazzi Che difficile Ok Facciamo una bella miniatura Respawniamo Guardate che roba Regà Cosa crea l'allusione Guardate qua Che spettacolone Allora Intanto volevo aspettare Anche Lugozzi Per Però non so dove sia Regà Intanto facciamo la miniatura Tanto che aspettiamo Bella Bella Guardate qua Regà Che spettacolo Ok Ok rispawniamo Aspettiamo Lugozzi Poi concludiamo Eccolo qua Lugozzi Regà È arrivato Il mitico Lugozzi Vedete tutti i gara Mai Lugozzi Oh Ma trollato Incredibile Dai andiamo a concludere Sta garetta Lugo Vai vai Lugo È tua la prima Vai Lugo Andiamo a concludere Mai E let's go Regà Fatemi sapere nei commenti Se vi è piaciuta Questa garetta Dell'uzione Creata Con le soffici Soffici Mani Lasciate tanti bei like E noi come sempre Ci becchiamo Al prossimo video Bella regà